buongiorno a tutti ragazzi benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video dal vasapolli nazionale dal cappone dalla nostra leva che vi saluta eccola qui siamo pronti oggi per affrontare per affrontare questo breve giro infatti oggi saranno previsti più o meno un paio di centinaia di chilometri circa 200 chilometri giro molto blando siamo già sulla di portina siamo già sulla di portina siamo già sulla di portina che ci siamo incontrati con gli altri e adesso li stiamo muovendo per arrivare ad orvinio prima passando per san paolo dei cavalieri arrivando a urvinio e poi da urvinio arriviamo a poggio mogliano che sta in provincia di rieti oggi con noi gli altri due amici che non avete mai visto sul canale sono danilo con il 690 smc r e gianmarco con liber motard 939 sp precisiamo ma quanto mi piace sto pezzo ma mi stai registrando allora vorrei salutare da casa mia madre e mia nonna ciao mamma va che bello torino di uomo marcio grazie acqua sulfurea questo odore alquanto sgradevole attenzione per l'ortofrutta di antonella si passa di qua a noi non ci interessa dell'ortofrutta ma volevamo andare dritti come potete vedere dal meteo oggi il meteo vasa preannuncia un cielo velato mamma che caldo dietro al pullman pure mi manca l'aria attenzione curva stretta curva stretta eccola ci siamo? benvenuti a marcellina può accompagnare solo oh yes queste sono le cose che mi piacciono bello 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 No mamma mia attenzione abbigliamento ideale per incarellarsi maglietta a mezze maniche senza guanti e con casco jet seme anche senza visiera borsello tattico mamma mia guardatelo attenzione strada spiedata wow 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 Giovanè... ripartiti da Orvinio so stava per pranzo per chiunque venisse da queste parti a Orvinio vi consiglio vivamente, molto vivamente di fermarvi al forno dove sta la piazzetta perché i ragazzi fanno una pizza spaventosa vai Luca vai mamma mia regà dopo pranzo le forze precipitano proprio strada ghiacciata molto bene, siamo a fine maggio è giusto che sia ghiacciata attenzione iniziano le curvette iniziamo a riscaldarci porca t***a no, arcoggiù da un insetto ho fatto troppo male porca p***a che dolore no, arcoggiù da un insetto no, arcoggiù da un insetto che dolore no, arcoggiù da un insetto no, arcoggiù da un insetto giunti ora sulla salaria e adesso si ritorna verso casa pezzo che abbiamo fatto l'altra volta sotto la pioggia mentre tornavamo da Castelluccio da qui fino a casa saranno una settantina di chilometri tutta sotto l'acqua rega, l'altra volta sempre, sempre sotto l'acqua abbiamo preso tanta di quell'acqua che poi neanche immaginate ragazzi vi ricordo che tra poco uscirà il video del Q&A per chi ancora non avesse fatto delle domande andate sul mio profilo Instagram basa trattino basso 93 trovate lì la foto per magari chiedermi qualcosa io commenterò nel video come sempre ragazzi spero che il video vi sia piaciuto si impenna, si impenna il cappone si impenna se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi spollice da più non posso condividete e commentate fatemi sapere come vi è sembrato questo video noi ci becchiamo su un prossimo video e ciao iscriviti al canale